Cos'è il futuro? Per noi il futuro è un cuore che si ferma e ricomincia a battere. È un organo che sembrava perduto e invece torna a vivere, in un nuovo sorriso. Per noi il futuro è quando nessun bambino nasce troppo piccolo per diventare grande. È quando le grandi sfide che incontriamo fanno sempre meno paura, perché le affrontiamo insieme. Al Policlinico di Milano il futuro è una realtà che creiamo tutti i giorni, pensando a chi ne avrà più bisogno, per garantire cure sempre più innovative. Il futuro per noi è sentirsi parte di una storia fatta di migliaia di persone che ci hanno sostenuto nel tempo e che ci sostengono ancora oggi. Persone come te, grazie alle quali stiamo dando vita a un nuovo luogo di cura, Un ospedale all'avanguardia, il nuovo Policlinico, per dare ancora più valore alle persone, alla città, alla vita. Per noi il futuro è tutto questo. Costruiamolo insieme.